Non-farm payrolls, uno degli annunci economici più importanti degli Stati Uniti e potenzialmente un'importante fonte di opportunità di trading. Rilasciate solitamente il primo venerdì del mese alle 8 e mezza ora di New York, indicano quante persone sono attualmente impiegate nell'industria manifatturiera, nell'edilizia e nella grande distribuzione americana. Si rappresenta l'80% della forza lavoro totale del Paese. Non sono inclusi agricoltori, impiegati statali, impiegati domestici e chiunque lavori per organizzazioni no profit. Ma perché è importante per i traders? In una parola, volatilità. I dati sul lavoro sono indicativi della salute del settore economico. In particolare se la cifra è molto al di sopra o al di sotto delle attese, ciò può portare a un forte e inaspettato impatto sui mercati finanziari, il che significa nuove opportunità di trading. Sicuramente la volatilità amplifica anche il rischio. Ma su quali mercati si può far trading? Sul mercato più importante, il forex. Le principali coppie di valute si muovono spesso a seconda che i trader acquistino o vendano dollari in base all'andamento dell'economia statunitense. Gli investitori acquistano o vendono azioni in base alle aspettative di crescita. Inoltre ci sono le obbligazioni e l'oro, i cosiddetti beni rifugio, che a seconda del numero di lavoratori e di quanto fiduciosi siano gli investitori riguardo l'economia, possono evidenziare oscillazioni significative. Infatti i dati sui non-farm payrolls possono provocare movimenti in ogni mercato globale. Perciò è opportuno fare le proprie valutazioni e monitorare le opportunità. Ma bisogna anche procedere con cautela. Se la volatilità può creare opportunità di profitto, altrettanto facilmente può portare a grosse perdite. Quindi, quando operate sui non-farm, considerate sempre l'uso di stop loss per limitare il vostro rischio e potreste anche scegliere di aspettare che i mercati tornino più stabili prima di aprire la vostra posizione.